eccoci qui siamo davanti allo studio del notaio pugliese abbiamo finito la stipula dell'atto notarile di una casa a palombara sabina siamo con giulia che ha appena acquistato questa nuova proprietà e ti domando com'è andata come è stato il lavoro con me con il mio studio il servizio offerto e allora mi sono trovata benissimo e daniele è una persona molto professionale precisa ed eccellente nel suo lavoro ed è stato accanto a noi tutti i processi i passaggi di questa vendita e lo ringraziamo veramente tanto per l'appoggio perché essendo stata prima casa erano un po inesperti quindi ci ha guidato in questo adesso ti sei tranquillizzata si adesso si sei contenta meno male bellissimo questo tuo sorriso tanti auguri per il progetto che farete su questa casa tanti auguri ciao ciao